Bentornato guerriero, siamo all'episodio numero 12 di Stay Frosty e questo episodio è veramente carico di notizie e novità importantissime dal mondo di Call of Duty. Abbiamo una dichiarazione molto importante direttamente da Activision per quanto riguarda la SBMM, Patchnote come se piovessero per quanto riguarda Multiplayer di Modern Warfare, l'arrivo di Warzone e tutta la parte blog relativa agli arrivi della stagione 1 di Warzone con l'integrazione. Quindi andiamo a vedere tutto velocemente ma in maniera molto approfondita, come il classico stile di Stay Frosty. Let's go! Partiamo subito con la notizia calda, ossia la dichiarazione da parte di Activision dell'esistenza dell'SBMM. Avete visto un video, se siete frequentatori di questo canale, dove parlo dell'SBMM e di come funziona? Sto preparando un video sulle VPN relativamente all'SBMM, se funzionano oppure no, quindi rimanete collegati a questo canale se volete vedere esattamente che cosa succederà fra VPN e SBMM, ma quello che sto per dirvi è veramente ancora più importante perché finalmente Activision dichiara qualcosa in merito all'SBMM ed è forse la prima volta che vediamo una cosa del genere scritta su un post Twitter che parla apertamente di questo sistema. La dichiarazione è Ve la faccio breve, ve la traduco subito. Sappiamo che c'è tantissimo interesse nel matchmaking experience, quindi come vengono combinate le partite e sappiamo che questo è molto importante per creare una bella esperienza in gioco. Stiamo lavorando da dieci anni e più al processo di matchmaking e tantissimi studios sono coinvolti per creare e migliorare questo processo. C'è il back-end service, demonware e anche il player insight team, ossia un team interno che lavora sulle segnalazioni esterne per cercare di migliorare sempre di più l'engine. In questo enorme sforzo al quale lavoriamo da tanti anni ci siamo però persi la condivisione con quello che stiamo e abbiamo implementato. Quindi parlare di questo argomento con voi può essere difficile e lo è difficile perché parlare in maniera approfondita di questo significherebbe rivelare anche tante dinamiche aziendali che non possono essere divulgate perché ci sono strategie aziendali che devono per forza rimanere segrete. Questa è una mia nota. Vado avanti and we haven't spent the time to pull together. Cioè ci stanno dicendo non abbiamo avuto, non ci siamo accorti che non vi stavamo rendendo partecipi di quello che stavamo facendo. E in pratica we are looking forward to doing that in the coming week after season one launches and we'll also make it a part of an ongoing discussion with the community. Quindi tradotto in parole povere, qui c'è una piccola traduzione, non vediamo l'ora di farlo, quindi di parlare di SBMM e di come funziona nelle prossime settimane dopo il lancio della stagione 1 e lo renderemo parte delle discussioni in corso con la community. Quindi finalmente abbiamo qualcosa di positivo da parte di Activision e di tutti i team di sviluppo che ci permetteranno di vedere un pochettino dietro le quinte di questo grande motore che è SBMM e che tanto fa discutere per via del fatto che troppo spesso rovina le partite. Scrivimi qui sotto cosa ne pensi e adesso andiamo a vedere tutte le altre notizie. Abbiamo la patch note di Sledgehammer che si occupa del multiplayer e qui abbiamo tutto quanto quello che hanno sistemato per quanto riguarda soprattutto una delle cose più importanti la skin Gaia e la skin Gaia Black Cell che sono praticamente state rimosse temporaneamente dal gioco per essere reworkate perché erano veramente troppo troppo sbroccate, non riuscivi praticamente a targettarle. Poi hanno sistemato nel multiplayer tutta l'interfaccia utente, tutta, alcuni problemi relativi all'interfaccia utente, gameplay, progress, map, quindi progression per quanto riguarda sblocchi di challenge eccetera eccetera. Hanno sistemato Rust, Subbase, Operation Spared e Farm 18 per quanto riguarda soprattutto gli spawn, le modalità Search and Destroy, poi il perk finalmente EOD ritorna a funzionare. Mentre vediamo in sottofondo il trailer della season 1 che viaggia, ci sono tantissime cose che verranno introdotte in questa season 1 di Warzone con la fusione di Modern Warfare 3, quindi tutte le meccaniche di gioco, tutte le armi, verranno ritoccate tutte quante le armi anche di Modern Warfare 2 per essere in linea con tutto il sistema che verrà implementato su Warzone. Zombie andrà avanti come possiamo vedere, quindi completato l'atto 3 e aver finalmente distrutto il vermone, che vediamo qui dovremo andare a sfidare boss sempre più devastanti e abbiamo anche Urzikstan con questo look like Verdansk che ci riporta indietro nel 2019 e tutto quanto questo ci porterà a combattere su questo nuovo campo di battaglia con nuovi mezzi, nuove armi di tutto e di più. Quindi andiamo a vedere velocemente cosa verrà introdotto e ovviamente qui lasciamo il nostro filmato, andiamo ad aprire la nostra schermatina, quindi dicevamo questa qui è la roadmap con la nuova mappa Urzikstan, avremo un treno guidabile, avremo le horizontal zip line, contratto big game ritorna, quality of life update, cioè la maschera che potremo indossare in maniera manuale, non più automatica come ce l'abbiamo avuta nel 2019 e lo stiamo chiedendo solo da tre anni, grazie Activision. Rimangono Vondel, Ashika Island, il nuovo Gulag che avrà tre modalità differenti, quindi avrà la modalità notturna, ci saranno tre layout differenti del Gulag dove una volta morti potremo cercare di riscattare la nostra libertà per tornare sul campo di battaglia. Le modalità Battle Royale, Plunder, ritorna finalmente, che è una delle modalità più attese da tantissimi, sembra una cavolata ma è una delle modalità dove la gente si sta divertendo di più perché non fa caso alle morti e si diverte soltanto a raccogliere soldi e fraggare a più non posso. La modalità ritorno, ritorna, come dice lo stesso nome, con Vondel, Ashika Island e a rotazione le mappe della parte di War che abbiamo sul multiplayer. Poi Flyby Public Event, avremo poi la Buy Station in un evento pubblico e la nuova Champion Quest per far saltare in aria tutta quanta la mappa di Urzikstan. Nuove armi, ne abbiamo veramente tante, 5, Torner Ram 7, abbiamo l'XRK Stalker, fucile da sniping che sembra promettere veramente tanto tanto bene e sono tutti quanti nel Battle Pass al lancio Ram. Stalker e Storm Mender che sarebbe praticamente uno shotgun che spara impulsi, EMP che disabilitano armature, auto, tutti i veicoli che vanno con energia elettrica o energia. Quindi disabilitate tutto quanto quello che c'è intorno in un raggio d'azione. Durante la Season Reloaded avremo un SMG, l'HRM9, quindi una similuzzi, una fusione fra un Uzi e un Lachman Sub e poi un'altra variante del TAC Evolverer che si aggiunge alla famiglia dei TAC. Abbiamo adesso l'Enforcer appena arrivato, abbiamo il TAC 56, il TAC V e avremo anche il TAC Evolvere. Avremo tantissimi nuovi operatori, avremo Santa Claus in versione zombie che torna, per fortuna Krampus non ce lo piazzano fra le palle questa volta, avremo tutte le mappe multiplayer di cui vi ho già detto in passato, Meet, Grease, Rio, Training Facility, Killstreak ci saranno l'EMP, l'Impulse MP, Swarms, piccoli missili che ti vengono a rompere le palle dappertutto, Ranked Player ritorna nella Season 1, quindi Multiplayer Ranked ritorna, Vortex per quanto riguarda la parte zombie, molto interessante, Tetanus e Sporyard in Season, questo tutto quanto durante la Season Reloaded, avremo una nuova parte della storia da completare in zombie con il Dark Aether Rift, poi avremo veramente tanta roba, nuove armi meravigliose, nuovi warlord, tanta roba per zombie che sarà la parte predominante di quello che è ormai purtroppo il defunto DMZ, DMZ ve lo devo dire, Guerrieri non torna più, rimarrà nella parte free to play di Warzone ma non verrà implementata, questa in base, questo in base alle dichiarazioni rilasciate da poco in questa patch note, avremo Bundle, Polatrades per la Dune parte 2, Fade Rauta e avremo veramente un altro sacco di pacchi di Bundle a strafottere come sempre. Vediamo velocemente che cosa succede, overview, abbiamo quindi 4-9 mappe, Ritorno al Gunfight, abbiamo Codemus, Festività, Ranked Play eccetera eccetera, qui abbiamo visto Grecia, Meet, Rio, Training Facility, abbiamo il Gunfight Return, quindi abbiamo la modalità confermata e il Ritorno al Gunfight, poi abbiamo All or Nothing, delle nuove modalità multiplayer e abbiamo anche modalità tempo limitato, Vortex in multiplayer che ci permetterà probabilmente di utilizzare, da quello che vedo, armi di zombie. Quindi Codemus, per fortuna, come vi dicevo, non torna il Krampus, modalità infetto che non dispiace mai, Headporter, abbiamo tutte le modalità multiplayer, abbiamo la nuova Vest Assassino, Stealthy Killer e non ve lo racconto neanche cosa fa, poi abbiamo le nuove Killstreak, Missilino e Impulso EMP e andiamo a vedere, ovviamente partono le Ranked, Modern Warfare Zombie, come vi ho detto ci sarà un nuovo arco narrativo che ci porterà avanti nella storia, questo ovviamente solo per chi ha acquistato il gioco, è una cosa che mi dispiace perché sarebbe stato molto bello avere un proseguio di DMZ su zombie, che ci permetteva quindi di avere più profondità e più coinvolgimento da parte di tutti i player di Call of Duty, purtroppo la loro scelta è stata quella di tenere a pagamento la parte zombie e secondo me è una lose completa, bisognava tenere zombie come parte free to play al posto di DMZ per cercare di coinvolgere di più e soprattutto per dare un'altra chance alle persone che non hanno acquistato il gioco completo di poter livellare le armi e divertirsi perché ve l'ho già detto in un altro video, la modalità zombie è veramente molto divertente, è impegnativa, è una sfida che ti porta a sbloccare tante piccole parti del gear, delle armi, livellandoli in maniera non troppo sudata, come succede spesso e volentieri sulle Ranked, scusatemi, sul multiplayer, dove veramente per livellare un'arma uno deve buttare sangue e quindi su zombie questo avviene in maniera molto più tranquilla. Abbiamo tutte le nuove schematics, andiamo avanti, questo è sempre parte zombie, Warzone, benvenuti in Urzikstan, quindi carry forward, tutte le armi come vi dicevo di Modern Warfare 2 verranno reworkate per lavorare in sinergia con tutto l'ambiente di Warzone MV3, avremo Mappa Urzikstan, Ritorno di Vondel, Ashik Island, il treno guidabile, Gulag, nelle tre varianti che vi ho detto, poi al lancio ci sarà Battle Royale, Plunder, Ritorno e poi ovviamente le nuove come Ritorno ci saranno Orlov Military Base, Pop of Power e Zaravan Suburb, quindi ci saranno tre pezzettini della mappa di Urzikstan che verranno relegate anche come parte delle mappe Ritorno. Poi eventi in season lockdown, Slay Ride e ci sarà Babbo Natale che ci verrà a squartare di brutto. Una cosa interessante è questo Quality of Life, praticamente c'è la possibilità adesso di vedere la qualità del loot che troviamo a terra, quindi verrà colorato in blu, verde, viola o leggendario in giallo, così capiremo se un'arma che stiamo tirando su è un'arma con tanti slot equipaggiati per gli accessori, come succedeva un tempo. Avremo slot dedicati per le munizioni, la mappa tattica ritorna, finalmente le iconcine ritornano e ritorna anche il ping rosso, così capiremo se c'è qualcuno nelle vicinanze che spara senza un silenziatore e capiremo anche se il silenziatore ritornerà a essere meta come una volta. Poi avremo la pistola di backup, mentre nuotiamo non verremo più silurati sott'acqua perché qualcuno si è fatto un loadout con la pistoletta, potremo sparare e cercare di difenderci anche sott'acqua mentre nuotiamo, perché avremo una pistola di backup che potremo utilizzare negli scontri acquatici. Abbiamo poi, come vi dicevo, la maschera gas che sarà in modalità manuale, contratto activation e poi abbiamo flyby, le horizontal zipline, ve le sto ripetendo perché sono segnate. Avremo le meccaniche che sono il puntamento mentre scivoliamo, la tuck stance, la ricarica mentre corriamo e su una cosa importantissima, quando ci facciamo la steam, questa aumenta di nuovo la velocità di corsa, questo come succedeva su Warzone 1. Chi se lo ricorda quando sulla nostra mappa preferita ci sparavamo la steam e correvamo come Usain Bolt. Returning slide cancel, quindi ritorno allo slide cancel e poi avremo la champion quest nella season 1 reloaded, questo per far saltare in aria tutta la mappa. Questa tutta quanta Urzikstan, per chi non la conoscesse ancora e non ha giocato a zombie, è una mappa molto utile da imparare soprattutto per capire quali sono i distretti per potersi lendare subito, iniziare a luttare e ingaggiare e poi ovviamente qua ci sono tutti quanti i dettagli della parte Warzone che ovviamente ci sono tutti i vari distretti, parla qui adesso di Vondel e Ashika, il movement update che vi ho appena detto, quindi tutto quanto quello che viene introdotto, poi backup, experimental grenade, slot dedicati alle munizioni, tutto ve l'ho già detto prima, abbiamo il treno guidabile, quindi potremmo guidare il treno, anche questo ve l'ho detto prima e non vi faccio perdere tempo, la horizontal zipline secondo me è un'aggiunta veramente molto succosa, ci permetterà di passare orizzontalmente per l'appunto da un edificio all'altro tritando tutto, sarà veramente un cambio di tatticismo non da poco, nuovo veicolo al lancio il coyote e poi avremo il ritorno del big game contract che mancava, nuovi perk al lancio avremo il pad tattico, i guanti commando, i guanti con la presa migliorata, gli stivali da arrampicata e overkill per avere due primarie, quindi tutto questo verrà integrato e ovviamente a questo che vi sto dicendo non c'è ancora tutta l'integrazione che ci sarà fatta con le armi, poi ci saranno nuove, nuovi perk irradiato, temprato, combat scout, risoluto, shrouded, montanier, stalker, tutta sta roba qui sono tutti perk, tutte abilità che possiamo equipaggiare sul nostro personaggio per aumentare la velocità di nuoto, di prone, di crouch speed, poi oppure possiamo ridurre il danno da caduta, oppure possiamo droppare una granata fumogena quando siamo atterrati, tanta tanta roba, veramente tante tante skill che rendono veramente molto più tattico tutto il game, nuovo gulag, abbiamo tutti i vari tre scenari, addirittura anche la parte notturna, il night vision e poi abbiamo veramente di tutto di più, crampus is back, ah non è vero, just kidding, stiamo scherzando, invece abbiamo il codemass, abbiamo il babbo natale congelato mezzo zombie che verrà a romperci le scatole durante tutto il natale, ci porteremo dietro le palle da neve e faremo il classico evento natalizio con lo snowball fight e general overview, abbiamo zombie warzone eccetera eccetera, vi ho già detto tutto, chi avrà ovviamente preacquistato il titolo con l'edizione cassaforte avrà 50 gettoni per sbloccare subito tutte le armi, l'XRK Stalker e tutte le armi che vi ho detto prima, Ram 7 che sarà sicuramente un ottimo sniper support come l'era nel 2019, ma staremo a vedere come lo workeranno per inserirlo all'interno dell'ecosistema delle armi, Storm Mender che è quello shotgun che lancia granate MP, poi abbiamo, ve le ho già detti, evolvere e poi abbiamo explorer attachment, 9 new attachment, ok, aggiungono 9 aftermarket parts alla season 1, quindi ci saranno aftermarket parts che potremmo equipaggiare per modificare le nostre armi e già quelle che ci sono, sono veramente divertenti soprattutto per l'MCV che il jack purifier non è male, non è male, ci saranno tanti tweak da fare per poter andare a capire se qualcuna di queste combinazioni dell'aftermarket, quindi sono praticamente delle modifiche che vengono aggiunte alle armi per renderle differenti dalla loro build iniziale e quindi andare a sfruttarle su più ambienti, quindi abbiamo un fucile da lungo ma lo vogliamo modificare con una canna più corta per renderlo efficace con il suo ratio di fuoco nel corto medio, lo possiamo fare attraverso le aftermarket parts che sono introdotte e ce ne saranno 9, ovviamente non poteva mancare il black cell, quindi black cell è il mega bandalone da 30 euro che ci sarà, ci darà skin esclusive, armi, varianti armi e quant'altro, ovviamente il costo è veramente esagerato e come vi ho detto tante volte non vale la pena acquistarlo a meno che non siate dei content creator che dovete farci video sopra, quindi secondo me non ne vale la pena e poi ovviamente ci sono tutti quanti i vari operatori che verranno rilasciati al lancio abolisher della specgru al lancio, molto carino anche se leggermente visibile, proprio un po' visibile anche al buio, non so perché, santagnas e qui abbiamo ovviamente perché c'è la parte 2 di dune che sta per uscire probabilmente ad aprile marzo del prossimo anno e ovviamente il bundle di Fade Rauta e di Paul Atreides, per chi non conoscesse la saga consigliatissimo dune sia i libri che i film sono veramente molto validi, quindi ovviamente fantascienza, fantascienza quindi se non amate la fantascienza droppate pure. Weekly Challenge, anche qui abbiamo uno fottio di roba, Prestige Challenge, abbiamo finalmente il ritorno del prestigio e si va, si inizierà a salire di brutto e si grinderà anche qua. Prestigio si, credo si arriverà fino alle 2.50, sì, Prestigio 5 al 2.50 ovviamente poi aumenteranno di season in season. The Future of DMZ, questa è la parte finale del video, infatti è al fondo apposta perché dicono che, infatti ve la faccio molto breve. Abbiamo imparato quello che c'era da imparare dalla beta DMZ, la lasceremo però non continueremo in questo momento a supportarla, nel senso che non ci saranno, come vi dicevo all'inizio, c'è troppa carne al fuoco, hanno troppe cose, troppi fronti su quali lavorare, zombie, warzone, multiplayer, le ranked del multiplayer e le ranked di warzone. C'è veramente troppa troppa roba per fare in modo che ci sia anche DMZ, forse ci voleva un altro studio che supportasse questo titolo. Ah, dimenticavo, c'è anche Plunder, tra virgolette, che è una parte non trascurabile ma che impegna comunque delle risorse. Quindi abbiamo poi CDL Pack, quindi anche qui abbiamo Pack a strafottere e Stay Frosty. Il saluto che vi faccio anch'io per aver guardato questo video, per aver condiviso questo video con tutti i vostri amici appassionati di Call of Duty, ma soprattutto per aver messo un like e un commento e vi aspetto su tutti gli altri miei social. Guerriero, spero di averti dato il migliore dei servizi facendoci di questo wrap up in questo Stay Frosty episodio 12. Per il momento questo è tutto, keep fighting, alla prossima!